Nicchi Giusino il disturbatore televisione per attoromasia www.nichigiusino.it sta andando in onda nel serale di amici con tutto la bella altissima e magrissima Maria De Filippi poco fa il duetto tra Annalisa Scarrone e Deborah voi che cosa ne pensate? scrivetelo nei commenti cliccate piace al video condividete il video ma soprattutto iscrivetevi al canale salve